Assolutamente non è il caso di parlare di paziente zero, è stato semplicemente un soggetto con un quadro febbrile da causa non nota proveniente dal Congo dove ci sono diverse infezioni. Nessun paziente zero, lo dice con chiarezza l'infettivologa dell'ospedale di Lucca che ha curato nei giorni scorsi un 50enne di rientro dal Congo che presentava una sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile alla misteriosa malattia che sta colpendo una regione del paese africano. Il paziente è stato ricoverato dal 22 novembre al 3 dicembre, è stato curato con antibiotici, è già stato dimesso perché è guarito. All'inizio i medici non avevano avuto nessun sospetto, solo dopo la dimissione lo hanno richiamato in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo la dimissione, proprio tre giorni fa, abbiamo appreso dai giornali, dai mezzi di comunicazione di questo ipotetico focolaio in Congo e è stata nostra premura richiamare questo soggetto, verificare le sue condizioni di salute, verificare che non vi fossero altri casi secondari. L'uomo lavora in Congo a 500 chilometri dalla zona dove sarebbe stato documentato il focolaio dell'epidemia. Aveva febbre e anemia, ma come precisano gli esperti, si tratterebbe di una patologia di cui si sa poco, con sintomi comuni anche a molte altre malattie. Inoltre aggiungono le zone del paese africano dove la sindrome ha colpito, sono molto povere e l'anemia può essere dovuta semplicemente ad una generale di nutrizione della popolazione. I NAS hanno ritirato i campioni del paziente che verranno analizzati dall'Istituto Superiore della Sanità. La persona sta bene, non ha contagiato, questo è importante precisare, quindi non c'è nessun rischio, nessun pericolo di una malattia contagiosa in questo momento.